No, vabbè dai Tutti etchiot, tutti etchiot, tutti etchiot Tutti etchiot Vabbè dai guardate, gli colpisce tutti, raga L'hitta tutti, lo hitta sempre Cos'è? Cos'è? Oddio raga L'hanno bannato L'hanno bannato, è stato spulso L'hanno bannato, no, l'hanno bannato Ragazzi voi non avete idea Di quello che è successo in questo video Praticamente stavo giocando la modalità dove le persone Avevano 500 di shield e stavo facendo la challenge Delle armi rare, ma ad un certo punto Della partita vengo ucciso con un triple edge O te rimango svalordito Veramente in quel momento non sapevo cosa dire Mi avevo ucciso in una maniera assurda, raga Non l'avevo neanche visto, talmente era stato veloce Inizialmente pensavo fosse soltanto fortuna Visto che il player era no skin e mi sembrava abbastanza nabbo Ma poi continuando allo spettare Ho scopertoli inaspettato Stava citando, stavo usando delle hack Veramente, veramente potenti Non credo di aver mai visto delle hack così forti Tutti i colpi che sparava erano edge Raga, non mancava un colpo E la cosa bella che alla fine è pure stato bannato Quest'hacker Quindi mi raccomando guardatelo tutto fino alla fine Per non perdervi tutte le azioni di quest'hacker Che ha fatto delle cose che voi non immaginate neanche Nei vostri sogni Mi raccomando attivate la campanellina E iscrivetevi al canale Per non perdervi tutti i miei video Ok raga ci siamo Siamo io e Alessandro Stiamo iniziando a fare questa nostra partita Stiamo andando appunto a Parco Pacific E circoleremo di usare soltanto le armi rare Quindi sarà veramente, veramente difficile Speriamo almeno di trovare un pompa raga Perché senza quello non riusciremo a fare niente Sicuro Ok qui c'è già qualcosina Speriamo che ci sia qualcosa di bello figo nella cassa Se no non ci credo Ho trovato un'arma oro Comunque questa qui per chi non l'avesse capito È la modalità quella lì dove si ha tantissima Ma tantissima vita raga In modo che dovrebbe essere più semplice a giocare E guardate cosa ho trovato Arma verde raga Perfetto La prima arma rara l'ho trovata Anche se questo pompa qui fa veramente schifo eh Però almeno l'ho trovata Un bel cecchino è perfetto Ok Qui devo buttare tutto ovviamente quest'armi qua E ho soltanto il pompa Alessandro raga non mi sente Non so come mai Comunque un ragazzo che mi ha fatto un regalo Raga troverete il suo canale in descrizione Uh Ale c'è un pompa blu Però io non lo posso prendere purtroppo Porca miseria Sento gente che spara da queste parti No raga trovo soltanto armi blu E non trovo le armi verdi Porca miseria Andiamo andiamo Facciamo il giro di tutte le case Tanto non credo ci sia nessuno Ok stavo dicendo Non credo ci sia nessuno Ed ecco qui le persone Ale non riesco a capire dove siano Ok C'è gente lì a casa di roccata Quindi dobbiamo correre in quella casa là Non so se qui c'è qualcuno in realtà Cacchio è il problema raga Che io soltanto ho questo pompa Andiamo 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 ora Andiamo ora raga E' il momento giusto Vieni Ale Eccoli qua Eccoli qua Eccoli qua Eccoli qua Io avevo un botto di vita Mi ero dimenticato Vai Ale Vai Ale C'è uno qui What Quanto mi ha fatto questo raga Quanto mi ha fatto questo Uno qua raga uno qua Devo coprire No non ho più materiale Non ho più materiale Non ci voglio crede Non ci voglio crede Non ci voglio crede Ma questo qua Eh vabbè dai si Sono morto Sono morto Sono morto Ok C'è altra gente qua Non ci credo Non ho più colpi Non ho più colpi pompa Non ci credo raga Non ho più colpi No vabbè dai Non ho più colpi pompa E qui è pieno di gente Raga Porca miseria Porca miseria Raga stiamo specchettando Questa cavalletta 8449 Ma raga sono due uno skin Che ci hanno massacrato a tutti Raga E' una cosa assurda Come cacchio ho fatto E la cosa bella Che questo qua raga Mi ha preso tutti i colpi Ma com'è possibile Uh bella questa hit What Non ditemi che questo qui è un hacker No vabbè non credo eh Non credo Però mi sembra un pochino strano eh Vabbè dai Hai fatto entrare un pochino dei shot Ci sta ci sta Raga sono curioso di vedere un attimo Come gioca What No ragazzi Questo qui mi sa che sta usando le hack Raga questo qui mi sa che sta usando le hack Non ci voglio credere Eccolo 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 Ok raga Non sta neanche giocando così Ma così tanto aggressivo What 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 Cosa Ma siamo seri What Ragazzi sta citando Ragazzi Ragazzi sta usando le hack Ragazzi sta usando le hack Ragazzi sta usando le hack Non ci voglio credere È la prima volta che vedo un cheater Non ho mai visto un cheater ragazzi Giocare dal vivo Cioè L'ho visto nei video Ma non l'ho mai visto dal vivo 3 kill 33 persone di mente Ragazzi questo qui potrebbe fare 20 kill Mazza ragazzi Questo qui prende tutti i netshot Speriamo che venga bannato ragazzi Speriamo che venga bannato Ma No ragazzi ho visto una cosa assurda È Mondello Beach È Marioville È Marioville No lo devo chiamare Lo devo chiamare ragazzi È Marioville Mondello Beach è il secondo account di Marioville Ma stiamo scherzando Siamo seri Ragazzi Raga Mondello Beach è Marioville Sono sicuro al 100% Aspettate devo chiamarlo Marioville Ma sei tu in partita T'ho beccato a te Ti sto spettando Stai utilizzando le hack Sì io sto giocando con Sì sto utilizzando le hack Bro io ti sto spettando Sto guardando Cavalletto 8449 È il tuo amico Sì è il mio amico Fate schifo State cittando Ci avete chillato Ma saluto signor Serviano Bella ma come ci avete chillato Non ci credo Bella Guardalo 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 Ragà ragà No vabbè ragazzi No vabbè ragazzi Non ci voglio credere Ragà Non ci voglio veramente credere Guardate Sta hackerando Malissimo Sta utilizzando le hack Ragà Si vede proprio la mira Che si sposta sul personaggio No ragazzi No ragazzi ce n'è un altro Quanti kill farà questo qui Ragà Il bello è che non può Neanche No vabbè dai Tutti etchot Tutti etchot Tutti etchot Tutti etchot Porca miseria Io ragà sto rimanendo sconvolto E la cosa ancora più sconvolgente Che è il team di Marioville Ragà È Marioville quello lì Che ho beccato contro Ragazzi Mondello Beach È Marioville È lo youtuber che usa le hack Ho fatto anche un video Insieme a lui Ma C'è Io veramente non ci voglio credere Guardate Ce n'è un altro ancora Dai adesso lo richillerà Un'altra volta No ma siamo seri Etchot 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 Eh vabbè dai Guardate 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 Un altro C'è un altro ancora Sì adesso chiediamo anche lui Ma Cosa No vabbè raga Non ci credo 4 kill Se fosse una partita normale Ne avrebbe 25 di kill È una cosa allucinante Ma anche Mario Mi sta utilizzando le hack No vabbè raga Io veramente Non ci voglio credere Vabbè dai guardate Gli colpisce tutti raga L'hitta tutti L'hitta sempre Cos'è Cos'è Dietro 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 Adesso muore Adesso muore raga Adesso muore probabilmente Eh vabbè sì Dai su 500 di vita così a caso 6 kill in questa modalità Raga sono tantissime Vabbè dai Io raga veramente Non ci voglio credere Mamma mia raga C'è pure la safe Però ci potrebbero morire Dalla safe loro Quanto fa di danno Orca miseria Fa un botto di danno La safe eh Si devono sbridiare Devono correre Devono correre raga È anche abbastanza piccola Chissà se riescono a vincere questa partita Sono veramente curioso Probabilmente sì Ovviamente raga Cos'è sta citando malissimo Sicuramente riusciranno a vincerla Però È veramente una cosa curiosa Raga perché Questa qui Città Città forte Quindi sarà divertente Vedere cosa fanno Io raga vi giuro che mi diverto troppo A vedere le persone che chiacchiano Anche nei video Raga è veramente divertente Guardate qui Adesso distruggeranno tutto il server qua Cioè raga non è Cioè ha soltanto fucili di assalto Eh vabbè vabbè sì Ragazzi Io sto rimanendo sconvolto comunque Veramente Non so più cosa dire Eccolo qua Eccolo qui Uno Raga lo stai tanto come Non si vede Cosa No vabbè Cioè Ragazzi ma Ma siamo seri Anche Marivill sta utilizzando le hack Mi sa Anche Marivill ragazzi sta utilizzando Abbiamo trovato un team di hacker Ragazzi È la prima volta che incontro un team di hacker Veramente Ragazzi Cioè io Mi dispiace per le persone che stanno beccando contro Mi dispiace per i loro avversari Guardate Guardate Manu 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 Sto registrando Sto facendo un video Cioè un team di hacker bro Sto registrando Stanno hackerando tutti Sto registrando Sto guardando un team di hacker ora Ci vediamo dopo Manu dopo 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 Mamma mia raga Ho pure chiamato un mio amico Veramente sono rimasto incredulo Mamma mia raga È il bello che non viene bannato Ma perché non viene bannato ragazzi Perché non sta venendo bannato Un hacker di l'epic dovrebbe bannarlo Vabbè lo hitta sempre Ragazzi secondo me stai mirando in alto Ma lo hitta uguale Sarebbe figo raga vedere un hacker che ha la fly Eh questo sarebbe veramente bello Però non credo che esistano queste hack Ragazzi non ci voglio credere Ma state guardando veramente quello che sto vedendo io Eccolo qua raga Eccolo qua 82 di danno Va bene Così a caso Headshot No Guardatelo Boom Boom Sì vabbè Solo headshot fa Ragazzi non ho ancora visto Una volta che da vicino non gli ha fatto un headshot Non credevo abbia missato ancora un colpo in tutta la partita Ah ecco l'ha missato ora lol Ragazzi arriviamo a 10.000 like in questo video Perché è veramente una cosa epica Ragazzi Non mi è mai successo E la cosa ancora più divertente Che è stato Marioville Guardate Tutti Li uccide Tutti Cosa Ragazzi Mario è morto Povero Mario Mario che è morto Pure con le hack 10 kill in questa modalità Ragazzi Sono tantissimi Perché in questa modalità Le persone hanno mille di vita Vediamo un po' Vediamo un po' Ragazzi Sono in 5 persone rimanenti Io veramente E 12 kill Porca miseria Ragazzi Io veramente non so cosa dire Cioè Sto vedendo un hacker che sta giocando Ragazzi Sto vedendo un hacker in partita Sono scandalizzato Vi giuro Ok ragazzi Sceglia davanti Perché non li pusha Ah vuole entrare dal compagno Ma perché vede il compagno E le hack bro Perché vede il compagno Mamma mia ragazzi Cavalletta Cavalletto 8449 Gli mando la richiesta adesso Eccolo 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 L'hanno cicchilato Mamma mia Vabbè Vabbè dai Su Guardate la Boom 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 Va bene Un'altra kill Un'altra kill Ah non l'ha neanche ucciso lui L'ha strillata Mario Sono due contro uno Ragazzi 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 State vedendo quello che sto vedendo io Oddio Ragazzi L'hanno bannato L'hanno bannato L'hanno bannato È stato spulso L'hanno bannato No L'hanno bannato Mamma mia Mamma mia Ragazzi Quanta vita hanno Non so quanta vita hanno Mamma mia Mario Ragazzi Lo sta laserando malissimo Sono in due La safe è pure piccolissima L'ha missato Ok Mario Ha vinto i mochi Hai vinto i mochi Ragazzi Mario è morto Non ci credo Vabbè GG Comunque bella partita Ragazzi È stata veramente una bella partita È una bella partita Diciamo per l'hack Perché Non è che si è divertito tantissimo L'hanno pure bannato